Il diabete nel bambino, nel giovane, di tipo 1 come dicono i medici, che malattia è? Come viene curata oggi? A che punto è la ricerca? Il professor Franco Chiarelli, pediatra all'Università di Chieti. Allora, che malattia è il diabete di tipo 1 o del bambino? Il diabete di tipo 1 è una malattia su base autoimmunitaria, è una delle malattie più frequenti nel bambino ed è determinata dalla produzione di autoanticorpi, cioè di anticorpi contro le cellule che producono insulina contro le beta cellule. Il bambino che ha questo diabete fin dai primi mesi, dai primi anni, con che medicina e come viene curato? Intanto bisogna fare una diagnosi tempestiva perché è evidente che se il bambino non ha una diagnosi tempestiva può avere una chetoacidosi grave, una chetoacidosi diabetica e anche il coma. Questo va evitato a tutti i costi naturalmente ed è importante. Una volta diagnosticato il diabete tipo 1 si cura con l'insulina, cioè con una terapia sostitutiva che di fatto sostituisce l'incapacità da parte del bambino di produrre insulina. E questa insulina va presa per sempre, per tutta la vita? Sì, poiché il processo autoimmunitario che colpisce le beta cellule determina la distruzione di queste beta cellule, è indispensabile somministrare insulina per sostituire quella che il bambino non riesce a produrre. E come vive, come si sviluppa questo bambino, questo ragazzetto con il diabete di tipo 1? Con le tecniche attualmente disponibili e con i progressi che la ricerca ha messo a disposizione, oggi la terapia insulinica si può fare in modo assolutamente adeguato e quindi che sostituisca la incapacità del bambino di produrre insulina, ciò fatto che significa almeno tre somministrazioni di insulina rapida prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena e poi un'insulina basale che copre il fabbisogno basale, permette al bambino una vita assolutamente uguale a quella dei suoi coetanei, quindi gli permette di fare sport, di andare a scuola e di avere una vita sostanzialmente analoga a quella dei suoi coetanei.